mi ha appena chiamato un amico per chiedermi un consiglio al volo ha bisogno di estrarre del testo da diverse immagini ma non sapeva quale programma scaricare perché non ho mai parlato sul canale di niente del genere in realtà gli ho spiegato che non deve scaricare assolutamente nessun software perché questa è già una funzione contenuta all'interno di windows stesso e allora anche a suo beneficio andiamo a vederla insieme ti senti pronto iniziamo come mai quest'oggi mi trovo sul lato sinistro lo scopriamo a brevissimo quella che vedi sul mio desktop infatti è un'immagine un png che contiene l'inizio di pinocchio come puoi vedere nessuna parte di questo testo è assolutamente selezionabile o copiabile tempo fa se ben ricordi ti ho insegnato uno shortcut ovvero una scorciatoia data dalla combinazione di tasti windows shift ed s che consente di copiare una parte dello schermo andiamo quindi a premere questa combinazione di tasti e come vedi ci viene richiesto di selezionare la parte di schermo che ci interessa facciamolo insieme e andiamo a prendere questa porzione qui come vedi sul lato destro dove ci sarebbe stata la mia faccia compare una notifica clicchiamoci su e vediamo che si aprirà lo strumento di cattura di windows come puoi vedere nello strumento di cattura in alto c'è questa particolare icona quella che si chiama azioni testo andiamo a cliccarci su e vediamo che immediatamente viene automaticamente selezionato e riconosciuto tutto quanto il testo contenuto nella nostra immagine a questo punto ci basterà fare clic sul pulsante copia tutto il testo questo qui e potremo chiudere sia l'immagine che lo strumento di cattura a questo punto creiamo un nuovo documento di testo facendo clic sul pulsante destro scegliendo la voce nuovo e quindi successivamente documento di testo nominiamo il nostro documento di testo pinocchio punto txt l'estensione viene messa in automatico e premiamo il tasto invio per confermare a questo punto potremo aprire il nostro documento di testo fare clic con l'impulsante destro del mouse e scegliere la voce in colla come vedi il nostro testo perfettamente riconosciuto verrà estratto dall'immagine e sarà disponibile in un documento perfettamente modificabile a seconda di quelle che sono le tue esigenze tutto qui questa piccola funzionalità di windows mi è stata utile in tantissime occasioni e allo stesso modo spero che sia utile anche a te e detto questo siamo giunti al termine anche di questo video ma non posso terminarlo senza averti ringraziato per la tua compagnia salutato e dato come di consueto appuntamento alla prossima grazie a tutti